eccomi in soffitta cosa dovevo prendere non mi ricordo più che strano quel lenzuolo wow non ho ricordo di questo quadro eppure mi sembra familiare ah ora ricordo è passato qualche anno ormai ero giunto a creta per una vacanza quando vidi una stupenda e giovane donna con dei profondi occhi azzurri come il mare greco e capelli rossi e corti coperti da un allegro cappello con un motivo striato mi colpì immediatamente e decisi di farle un ritratto le avrei chiesto il nome le avrei regalato il quadro ma non ho potuto ricordo benissimo infatti che non finì il quadro perché dovetti ripartire ecco cosa stavo cercando un quadro per la collezione dei fratelli simonetti finirà questo e glielo consegnerò a milano però non so il nome della ragazza come lo chiamo? certo lo chiamerò simonetta in loro onore sì è